salve ragazzi questa è una video lezione di divina commedia abbiamo iniziato a studiare insieme il canto sesto del della cantica dell'inferno abbiamo fatto conoscenza del col demonio cerbero e abbiamo anche paragonato fatto il confronto fra il cerbero di dante e il cerbero virgiliano e se vi ricordate in classe vi ho messo vi ho letto alcuni stralci del canto sesto dell'eneide nel quale sono presenti figure come caronte o per l'appunto cerbero o anche si fa riferimento a minosse figure ampiamente presenti nella divina commedia riproposte da dante in un modo nuovo comunque bene proseguiamo quindi con la lettura del canto sesto il canto sesto è ambientato nel terzo cerchio nel cerchio come vi ho detto in cui viene punito un peccato di incontinenza che è la gola cioè l'incapacità di controllare di controllare il proprio la propria passione per il cibo e appunto poiché esso diventa un pensiero dominante succede che si perde un po' della libertà e viene in qualche modo degradata la figura dell'essere la persona umana è persona che invece può avere mantenere la sua libertà appellandosi alla sua ragione quale strumento che possa aiutarlo a contenersi a temperare i propri istinti a modularli abbiamo quindi nel canto sesto descritto in cosa consiste la pena delle anime dei golosi la pena delle anime dei golosi bene come essi giacciono cioè poiché essi giacciono distesi nel fango tormentati da pioggia e grandine puzzolenti e squartati da gerbero che li domina come nella vita essi amarono circondarsi di profumi delicati e prelibati così adesso sono condannati a stare in un fetore eterno come nella vita essi amarono affettare tagliare così adesso gerbero li squarta tra queste anime dante incontra quella di ciacco chi è questo ciacco che con cui dante si fermerà a parlare e che farà una profezia sulla città di firenze è un personaggio in realtà non noto non si sa molto di lui secondo lo ritroviamo anche in una novella del decameron come dove viene ritratto come un frequentatore di case di ricchi è un una persona che aveva piacere nello stare a tavola con gli altri e non si sa se ciacco si ne hanno non si sa niente se secondo alcuni giacco viene da giac secondo altri invece è un soprannome che vuol dire porco maiale e dante si rivolge a lui con tono affettuoso come fossero appunto dei dei conoscenti quindi questo fa ipotizzare che ciacco non stia per porco ma per giac ma in realtà non è detto ebbene proprio in bocca a questo giacco a questo personaggio abbastanza anonimo di di firenze è posta la profezia del canto sesto su firenze nella nell'opera nella commedia ci sono si ripresenta simmetricamente potremmo dire è un canto di tema con un tema politico il sesto canto dell'inferno riguarda firenze il degrado morale la divisione che l'attraversa divisione della quale vittima lo stesso dante dante appunto è appagato con l'esilio il fatto di essere stato priore in quella nella sua amata e odiata città nel sesto canto del purgatorio invece si affronta il tema italia nel sesto canto dell'inferno si parla dell'impero l'impero è l'unica forma politica che può come abbiamo avete già studiato nel de monarchia che può garantire quella pace e quella concordia di cui tanto hanno bisogno e l'italia e firenze quindi ogni sesto canto della di una cantica affronta un tema politico e questo quindi è il primo tema il primo canto che affronta pienamente il tema politico non che non adesso non si accenni in altri canti ma qua proprio è ampiamente affrontato tramite il colloquio con questo giacco dunque riprendiamo quindi l'analisi del canto dal verso 40 dante e virgilio stanno camminando letteralmente sopra con le piante dei piedi dice il poeta sopra queste anime tutte distese a terra affondate nel nel fango e sopra di esse troneggia cerbero un cerbero di cui viene sottolineato a differenza delle neide che ha un ventre largo e la barba unta questo appunto per indicare che questo animale perché questo animale in realtà simboleggia proprio il peccato della quest'animale con tre gole simboleggia il peccato della gola andiamo quindi al verso 40 anzi riprendiamo velocemente dal verso 34 noi passavamo su per l'ombre che adona la greve pioggia e ponevamo le piante sovra lor vanità che par persona e le giacean per tutte quante fuor d'una che a sedersi le vo' ratto che la civide passarsi davante o tu o tu che sei per questo inferno tratto mi disse riconoscimi se sai tu fosti prima che io disfatto fatto e io a lui l'angoscia che tu hai forse ti tira fuor della mia mente sì che non par chi ti vedesse mai ma dimmi chi sei tu che in sì dolente loco si è messo e hai sì fatta pena che saltre maggio nulla bene per ora smettiamo di smetto di leggere iniziamo a parafrasare questi queste terzine noi passavamo su per l'ombre che adona la greve pioggia e poiché queste e ponevamo le piante sovra lor vanità che par persona ora poiché queste anime sono distese a terra e lui si ritrova a camminare su di esse noi camminavamo sopra le ombre quindi le anime che la pioggia pesante greve adona adona è un provenzale adonar vuol dire fiacca e ponevamo le piante quindi e ponevamo le piante nei nostri piedi quindi camminavamo sopra lor vanità che par persona e la loro immagine che rappresenta il corpo e sapete infatti che dante immagina le anime appunto come delle figure sbiadite del nostro corpo la stessa cosa era successa già nell'eneide o nell'odissea sempre nel nei canti dedicati alla discesa agli inferi e di ulisse e di enea vi ricordo che il ratto viene dal raptus quindi vuol dire subito o tu che sei per questo inferno tratto o tu che sei condotto tratto attraverso questo inferno mi disse riconoscimi se sai se sai tu fosti prima che ho disfatto fatto tu nascesti tu fosti fatto tu nascesti prima che ho disfatto prima che io morissi cioè sono più grande di te ma eri già nato quando io sono sono morto mi puoi riconoscere e io a lui l'angoscia che tu hai forse ti tira fuori della mia mente sì che non parchi ti vedessi mai la sofferenza che tu provi forse ti trasfigura in volto al punto che io non riesco a riconoscerti ti tira fuori dalla mia mente cioè la prova la pena il dolore che lui prova è tale che ti trasfigura il volto e io non riesco a riconoscerti sì che non parchi ti vedessi mai così così che mi sembra al punto che mi sembra di non averti mai visto ma dimmi chi tesù chi sei tu che in un luogo sì dolente luogo in un luogo di tal dico tal dolore sei messo e hai sì fatta pena che s'altro maggio nulla è si spiacente e hai una pena tale che se altre sono più grandi maggiori nessuna è spiacevole sgradevole come questa ed egli a me la tua città che piena di invidia sì che già trabocca il sacco seco mi tenne in la vita serena voi cittadini mi chiamaste giacco per la dannosa colpa della gola come tu vedi alla pioggia mi fiacco ed egli a me la tua città che è piena di invidia sì che già trabocca il sacco che è così piena di invidia che ne trabocca da tanto da non poterla più contenere seco mi tenne in la vita serena mi tenne con sé quindi mi ospitò durante la mia vita terena che fu una vita serena tranquilla voi cittadini mi chiamaste giacco per la dannosa colpa della gola come tu vedi alla pioggia mi fiacco per la colpa dannosa della gola nel senso che vi ho spiegato e come tu vedi sono fiaccato sono colpito indebolito dalla pioggia e io anima trista non son che tutte queste a simil pena stanno per simil colpa e più non c'è parola e io anima e io non sono l'unica non sono so l'unica anima triste perché tutte queste che vedi anime stanno condannate a una alla stessa pena per la stessa colpa a una simil pena a simil pena per simil colpa e più non c'è parola e tacque io gli risposi ciacco il tuo affanno mi pesa sì che allagrimarmi in vita ma dimmi se tu sai a che verranno li cittadini della città partita se alcun ve giusto e dimmi la cagione perché la tanta di scordi assalita io gli risposi ciacco il tuo dolore mi pesa mi dispiace così tanto che quasi quasi mi fa piangere che mi invita a lacrimare vedete ancora una volta qua come già nell'incontro con paolo e francesca dante mostri un atteggiamento di pietà nei confronti del dell'anima dannata attenzione di pietà non pietà per l'anima dannata non vuol dire ritrovare condannare la pena che gli trovi ingiusta la pena e la pena è sempre una conseguenza della scelta di vita che si è fatta hai voluto hai cercato soltanto serenità per te su questa terra non curandoti degli altri e anteponendo il soddisfacimento dei tuoi piaceri a tutti gli altri dall'altra parte avrai una vita mostro di molto diversa nella vangelo questo nel libro non ve lo dice ma io so così ragazzi che questo ho letto questo che questo riferimento a ciacco che ha avuto una vita serena e sulla terra e come viene detto appunto al verso 51 è anche un riferimento a una parabola del vangelo la parabola del ricco epulone che è il ricco epulone il ricco banchettante viene descritto si parla di un ricco banchettante un ricco epulone di cui non si sa il nome e che non si cura di lazzaro che è un mendicante che giace ai piedi della sua tavola e che si nutre delle briciole di ciò che cade dal tavolo attenzione in questa parabola evangelica non viene detto che il ricco banchettante che ne so è il datore di lavoro di lazzaro e non gli paga lo stipendio no non c'è un rapporto di questo tipo fra i due semplicemente viene sottolineato che è il ricco epulone cioè il ricco banchettante il conviviante colui che pensava a banchettare a mangiare basta se ne fregava allegramente di coloro che di colui di quello di una persona vicina a lui che mendicava le briciole cade che cadevano della sua tavola e non potevano mangiare e questo il fregarsene lo strafogarci di cibo fregandocene di chi magari nel nostro stesso paese magari nella nostra stessa città non ha la possibilità di mangiare è una cosa come dire sufficiente nell'ottica di della parabola evangelica affinché il ricco epulone finisca nell'inferno tra i tormenti e il mendicante lazzaro invece trovi il ristoro per l'eternità a fianco ad abramo nel paradiso così dice il vangelo ed è una parabola chiaramente presente nella mente di dante anche quando parla di ciacco che sulla vita che a firenze tenne una vita serena e io risposi quindi ciacco il tuo affanno mi pesa così che mi invita a piangere ma dimmi se tu sai a che verranno gli cittadini della città partita se alcun ve giusto e dimmi la cagione perché la tanta discordia è salita ecco che dante chiede a ciacco che è un fiorentino come lui pone tre domande la prima domanda a che verranno gli cittadini della città partita cioè a cosa aggiungeranno a quale esito aggiungeranno i cittadini di questa città così divisa partita no fare le parti seconda domanda c'è ancora un giusto se alcuno ve giusto c'è ancora qualcuno giusto imparziale terza domanda dimmi la cagione perché la tanta discordia assalita perché è stata assalita questa città presa d'assalto da così tanta discordia fra i suoi cittadini a queste tre domande giacco vediamo che adesso che risponde puntualmente e quelli a me dopo lunga tengione verranno al sangue e la parte selvaggia caccerà l'altra con molta offensione poi appresso convien che questo caggia infra tre soli e che l'altra sormonti con la forza di tal che testè piaggia alte terrà lungo tempo le fronti tenendo l'altra sotto gravi pesi come che di ciò pianga o che non ti giù prima questa è la risposta alla prima domanda cioè fino a che punto che esito avrà la discordia fra i cittadini sono cose che già dante sa finge quindi una profezia e quelli a me dopo lunga tenzione quindi dopo una lunga tenzone tenzone cioè dopo un lungo tenzone dopo un lungo contrasto verranno al sangue a quanto pare qua dante fa riferimento a un a una rissa che è sfociata in nell'uso dei pugnali avvenuta fra le due famiglie più potenti di firenze la famiglia dei cerchi e la famiglia dei donati siamo nell'anno 1300 dopo questa rissa che ha portato al al fatto che uno un membro dei donati fosse pugnalato dai cerchi si è proprio i guelfi si sono proprio spaccati definitivamente in due fazioni i bianchi e più vicino a questi era dante e i neri e la parte selvaggia caccerà l'altra con molta offensione la parte selvaggia sono e la famiglia dei cerchi perché sono definiti selvaggia perché avevano origini contadine cioè avevano le loro origini erano della campagna la parte selvaggia caccerà quindi cerchi e la loro parte cacceranno i donati con molta offesa in maniera molto pesante poi appresso conviene che questa caggia infra tre soli e che l'altra sono monti con la forza di tal che testè piaggia poi in seguito appresso conviene conviene non vuol dire conviene ma vuol dire è inevitabile di conseguenza quasi quindi accadrà che questa cioè la parte dei cerchi caggia caggia cada tramonti infra tre soli nell'arco di tre soli nell'arco di tre anni e che l'altra la parte capeggiata dai donati sormonti quindi prenda il potere con la forza col sostegno con l'appoggio di tal che testè piaggia con la forza di uno che in questo momento quindi di uno che in questo momento invece fa si barcamena fra neri e bianchi quindi dopo appresso conviene quindi accadrà che questa cioè la parte dei bianchi i bianchi caggia cada e quindi l'esilio di dante entro tre anni e che l'altra i neri assurga al potere col sostegno di uno che in questo momento invece è diviso fra neri e bianchi alte terrà lungo tempo le fronti tener alta la fronte è un atteggiamento di superbia quindi la parte dei neri terrà lungo alta la fronte mostrerà un atteggiamento di superbia tenendo l'altra sotto gravi pesi e impone gravi pesi all'altra parte della cittadinanza cioè ai bianchi come che di ciò pianga o che naonti per quanto l'altra parte di cittadinanza pianga ciò si lame o si lamenti di ciò delle sofferenze che le infliggono i neri o che naonti o che si sdegni giù se adesso rispondo alla seconda domanda se alcun v'è giusto c'è ancora un giusto nella città anche questo è un riferimento biblico in diverse parti giusti sono due e non vi sono intesi superbia invidia avarizia sono le tre faville che hanno i cuori accesi dunque giusti se mi chiedi due le due persone se ci sono giusti a firenze ce ne sono solo due e non sono ascoltati non sono intesi vi ivi cioè a firenze non sono ascoltati poi terza domanda la cagione perché la tanta discordia ha salita qual è il motivo perché firenze è caduta così in basso superbia invidia e avarizia sono le tre faville che hanno i cuori accesi dante elenca quali sono i tre peccati mortali che hanno rovinato la città superbia invidia e avidità ecco quindi che dante riceve risposta alle sue tre domande che riguardano la sua città e proprio da questo personaggio abbastanza non in vista non particolarmente famoso e alla radice di tutti i mali egli vede superbia invidia e avarizia che sono appunto come vi ho poco anzi detto tre peccati capitali proseguiamo nella lettura di questo canto cui pose fine allagrimava il suono e io a lui ancor vo che mi insegni e chi di più parlar mi facci dono farinata e il teghiaio che fuor sì degni jacopo rusticucci a rigo e il mosca e gli altri che a ben far puoserli ingegni dimmi ove sono e fa ch'io li conosca che grandi si io mi stringe di saver se il cielo le addolcia o l'inferno le attosca e quelli e i son tra l'anime più nere diverse colpe giù li grava al fondo se tanto scendi la i potrai vedere ma quando tu sarai nel dolce mondo priegoti calamente altrui mi reghi più non ti dico e più non ti rispondo li diritti occhi torse allora in biechi guardommi un poco e poi chino la testa cadde con essa a par degli altri ciechi qui dopo che risponde alle domande tage qui pose fine allagrimabbi il suono le sue parole su firenze sono tali da suscitare il pianto e io a lui ancor vo che mi insegni voglio ancora che mi spieghi e che di più parlarmi facci dono facci un antico congiuntivo e che tu mi faccia dono di parlarmi ancora ora cosa fa dante chiede informazioni sulla sorte che nell'aldilà hanno avuto degli illustri personaggi fiorentini che si sono particolarmente impegnati si sono profusi nell'impegno civile e la politica infatti ve l'ho già detto è una delle forse la più alta forma di servizio al prossimo che possiamo fare vissuto ovviamente in un certo modo farinata e il teghiaio che fur così degni jacopo rusticucci a riguel mostra e gli altri che a ben far puoserli ingegni dimmi o vi sono e fa che io li conosca allora chiede informazioni di farinata degli uberti che poi incontreremo nel paradiso farinata degli uberti era il capo dei ghibellini il teghiaio e che era un un guelfo e jacopo rusticucci un altro guelfo a riguo e il mosca e che abbena e gli altri che a ben far puoserli ingegni e gli altri che impegnarono i loro ingegni nel bene comune a fare il bene comune cioè a occuparsi di politica dimmi dove sono e fa che io li conosca perché mi mi stringe un grande desiderio di sapere se il cielo li addolcia o l'inferno li attosca se il cielo li addolcisce cioè se conducono la vita dei beati la dolce vita dei beati o se li intossica li avvelena gli avvelena l'esistenza l'inferno da notare che a dolcia o e a tosca fanno riferimento sempre all'ambito del gusto perché siamo nel girone dei dei golosi e qui dante usa questo linguaggio e quelli e i son tra l'anime più nere sono tra le anime tra le pene più nere cioè più lontane dalla luce più dannate che soffrono di più più avvinte dal male diverse colpe giuli grava al fondo sono da peccati diversi precipitati in fondo se tanto scendi lai potrai vedere se scendi così tanto nell'inferno la nel fondo potrai vederle infatti poi incontreremo appunto ad esempio due di questi che menziona il teghiaio e rusticucci si trovano nel girone dei sodomiti e che per la cultura medievale era un gravissimo peccato contro l'ordine della natura contro contro la natura del proprio corpo e poi per quanto riguarda ad esempio farinata degli uberti anche lui sarà lo incontreremo proprio dante parlerà con lui e così come a rigo e il mosca che sono a quanto pare stati partecipi di un omicidio di tipo politico e sempre da collocarsi all'interno delle rivalità tra guelfi e ghibellini e quindi cosa sta dicendo qua dante che messaggio sta lanciando tu puoi essere un uomo che si spende per la politica per l'economia eccetera ma non è detto che ti salvi l'anima e interessa il libro nella nota fa un'interessante osservazione ci sono nel purgatorio anime che nella vita hanno commesso ben peccati ben più gravi rispetto per esempio a quello di francesca o a quello di ciacco però sono nel purgatorio perché perché francesca ciacco e quanti altri si trovano all'inferno non hanno mai distaccato gli occhi dalla loro da loro stessi dalla loro vita per rivolgerli al cielo a dio non si sono mai pentiti non hanno mai chiesto perdono non si sono mai voluti mettere non hanno mai voluto mettere in discussione la loro esistenza condotta in quel modo ravvedersi e pentirsi mentre nel purgatorio si trovano anime che per tutta la vita hanno persistito nel in un certo modo però a un certo punto si ravvedono a un certo punto si rendono conto che hanno e che hanno vissuto male che hanno vissuto lontano dalla luce e anche solo in punto di morte un'anima realmente pentita che si rivolge al padre viene da questa accolta come d'altronde come già vi ho detto è descritto nel vangelo laddove uno dei delinquenti crocifissi insieme a cristo in punto di morte si ravvede chiede perdono e gesù gli risponde oggi tu con me sarai in paradiso quindi il primo a entrare nel paradiso con cristo risorto secondo la religione quello che afferma la religione cristiana scusate ragazzi l'interruzione ma c'è stata un'irruzione nella nella stanza dove nello studio dove sto registrando pazienza dunque stavo dicendo appunto che nel purgatorio troveremo anime che hanno fatto peccati nella vita ben più gravi di quello di ciacco o di francesca ad esempio l'omicidio però a un certo punto hanno si sono pentite sono col cuore ritornate ritornate al padre che li ha accolte mentre francesca ciacco e tutti quelli che troveremo nell'inferno non hanno mai fatto questo passaggio si sono ostinati hanno proseguito fino alla fine nella loro condotta e quindi appunto vediamo come personaggi importanti della politica fiorentina che hanno dato tutti se stessi per il bene comune o quello che per loro era il meglio per la città di ferenza ecco che si trovano tutti quanti all'inferno e poi ecco delicatissima la richiesta di ciacco prima di crollare di nuovo nel fango a dante ma quando tu sarai nel dolce mondo priegoti calamente altrui mi rechi più non ti dico e più non ti rispondo ma quando tu sarai di nuovo nel mondo dei vivi ti prego che alla mente altrui mi rechi che mantieni il ricordo di me agli altri cioè un tentativo come dire un minimo un tentativo disperato di aver sollievo da questa pena e che gli altri sulla terra si ricordino di me più non ti dico e più non ti rispondo e a questo punto c'è questa scena incredibile gli dritti occhi torse allora in biechi gli occhi che finora mi avevano guardato dritto in volto si storcono in biechi cioè si mettono storti strabici guardommi un poco con gli occhi storti continuo a guardarlo e poi chinò la testa e cadde con essa a par degli altri ciechi e con la testa così crollò a terra nel pieno del fango così come le altre anime cieche perché cieche uno stanno sul fango e quindi magari hanno la faccia nel fango due sono cieche perché non hanno la luce di dio e il duca disse a me più non si desta di qua dal suon dell'angelica tromba quando verrà la nemica podesta ciascun rivedrà la trista tomba ripiglierà sua carne e sua figura udirà quel chin eterno rimbomba e virgilio disse a me da qua non si non si alza più fin quando non ci sarà il suono della tromba degli angeli il giorno del giudizio universale quando verrà la nemica podesta quando verrà anche per le anime del dannate e cristo il potere di cristo che per l'inferno è un nemico ciascun rivedrà la trista tomba quindi col giudizio universale con la resurre ora vi spiego cos'è ciascuno rivedrà la trista tomba ripiglierà sua carne e sua figura udirà quel chinete in eterno rimbomba allora ciascuno rivedrà la sua triste tomba ripiglierà la sua carne e la sua figura riavrà il suo corpo e udirà la sua sentenza che in eterno rimbomberà cioè che avrà durata eterna allora cosa si intende con giudizio universale secondo la religione la fede cristiana e questo è condiviso da tutte le da tutte le chiese cattoliche ortodosse protestanti ma anche secondo l'islam ci sarà un giorno il giudizio universale cioè risorgeranno i nostri corpi quindi la nostra anima quel pezzetto di dio che ha continuato a vivere nel nei regni dell'aldilà si riunirà ai corpi e con la resurrezione dei corpi questo vale per sia per l'islam che per il cristianesimo per le varie chiese quel giorno cristo secondo i cristiani scenderà dal cielo accompagnato dai suoni di trombe degli angeli e in quel giorno verranno le anime verrà instaurato definitivamente il regno di dio e le anime dell'inferno saranno come dire riceveranno di nuovo la loro condanna sarà confermata si trapassammo per sozza mistura dell'ombre della pioggia a passi lenti toccando un poco la vita futura perché io dissi maestro esti tormenti cresceranno nei dopo la gran sentenza o firminori o saranno sincocenti cioè si pone questa domanda dante i tormenti che adesso le anime nell'inferno vivono dopo la grande sentenza cioè dopo il giudizio universale saranno più grandi cresceranno fier cioè saranno minori si allieveranno le pene per i dannati o saranno siccocenti o saranno dolorose tanto quanto ora ed egli a me ritorna a tua scienza che vuol quanto la cosa è più perfetta più sente il bene e così la doienza allora fa riferimento virgilio alle teorie aristoteliche e riprese come sapete dalla filosofia scolastica medievale secondo la quale una cosa quando raggiunge il livello di perfezione sente maggiormente e la gioia e il dolore ora questi corpi uniti alle anime sentono sentiranno quindi in qualche modo giungeranno un livello di perfezione maggiore perché il corpo e l'anima saranno di nuovo un tutt'uno come quando come su questa vita terrena di ora di conseguenza coloro che sono in paradiso godranno di più perché c'è pure il corpo a godere della visione di cristo coloro che sono all'inferno soffriranno di più perché c'è anche il corpo a soffrire ritorna tua scienza cioè fermati a collegati a quello che è studiato in filosofia quello che vi dicevo l'altro giorno ragazzi quando parlavamo del mito di armonia colleghiamolo con quanto avete studiato a proposito di eraglito e il filosofo la tua scienza cioè la filosofia vuole che quanto più una cosa è perfetta più sente il bene e lo stesso vale per il dolore la doglienza tutto che questa gente maledetta in vera perfezione giamai non vada di là più che di qua esserà spetta tutto che vuol dire sebbene sebbene questa gente dannata non raggiunga mai non va non andrà mai nella perfezione totale vera di là più che di qua essere aspetta aspetta di diventare è più perfetta di là dopo il giudizio di quanto non lo sia di qua all'inferno di conseguenza la risposta è soffriranno di più questa era una questione una delle questioni teologiche sulle quali si dibatteva parecchio nel medioevo ai tempi di dante tanto che era uscita anche l'enciclica di un pa di un papa a proposito su questo tema del giudizio universale che troviamo rappresentato in tantissimi affreschi stupendi noi aggirammo attondo quella strada parlando più assai chi non dirvi dico venimmo al punto dove si rigra si digrada qui vi trovammo pluto il gran nemico quindi loro girano intorno in quella strada parlando più assai chi non ridico e continuano a discutere più di quanto io qua non stia a dirvi venimmo al punto dove si digrada vi ricordate vi ho detto che a causa del dante dice che a causa del terremoto avvenuto quando cristo morì in croce si fu sconvolto anche l'inferno e ci furono una serie di frane che permettono gli permettono loro a questi due viandanti di passare da un cerchio all'altro quindi vanno al punto dove si scende nel quarto cerchio qui trovammo pluto pluto è un altro demonio e che poi vedremo il gran nemico già ci annuncia che il grande nemico dell'uomo cosa è pluto è il demonio che rappresenta la ricchezza l'avidità ma questo sarà oggetto della della prossima puntata adesso ragazzi vi saluto e troverete al solito i compiti nel registro elettronico arrivederci